Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Sta per partire la nuova edizione dell'Isola dei Famosi ma secondo le ultime indiscrezioni qualcuno non ci sarà a causa di un litigio Ormai manca sempre meno all'inizio della nuova edizione dell'Isola dei Famosi Il reality dovrebbe partire il 17 aprile, dopo la conclusione del Grande Fratello Vip che quest'anno si è prolungato di circa un mese Da settimane si parla di chi potrebbero essere in naufraghi. Sono tante le voci circolate a riguardo e alcuni nomi sono già emersi È spuntato quello di Pamela Camassa, di Alessandro Cecchi Paone che potrebbe essere affiancato dal compagno Simone Antolini, da Cristina Scuccia, è giunto anche il nome di Gianmarco Onestini ma ovviamente nulla è certo Avremo sicuramente la conferma di chi saranno i protagonisti molto presto Al momento c'è una sola importante verità, al timone del programma ci sarà anche questa volta Ilari Blasi Punto la conduttrice è pronta a conquistare ancora una volta il pubblico E ogni anno ci riesce sempre, con la sua personalità che, possiamo definire, schietta e tanto ironica, qualità che ai telespettatori piacciono molto Nelle ultime ora però è circolata un'indiscrezione inaspettata, proprio lui potrebbe non esserci più Isola dei Famosi, le indiscrezioni che spiazzano tutti, non ci sarà nella nuova edizione Nelle ultime ore una voce in riferimento alla nuova edizione dell'Isola dei Famosi si è fatta sempre più insistente ed è stata riportata dal settimanale di più Si dice infatti che Ilari Blasi avrebbe avuto una discussione con Alvin, inviato del programma Un litigio che avrebbe portato quest'ultima a prendere una ferma decisione, ovvero lasciare il suo vecchio ruolo Stando a quanto dichiarato dal settimanale sopra citato, ci sarebbero stati diversi scontri, Ilari e Alvin non si sopportano più, avrebbe spifferato una fonte alla rivista vicina agli ambienti Mediaset In realtà l'indiscrezione parla di un ultimatum dato dal conduttore radiofonico una volta rientrato in Italia proprio dall'Honduras Avrebbe messo alle strette la produzione chiedendo di fare una scelta tra lui e la conduttrice Allo stesso tempo però si dice che sia stata Ilari a porre la parole fine al loro legame Al momento non si hanno maggiori informazioni al riguardo.Ovviamente si tratta soltanto di indiscrezioni e non sappiamo quale sia la verità dei fatti Scopriremo ogni cosa sicuramente a breve, quando verranno rivelati i nomi di tutti i presenti nella nuova edizione dell'Isola dei Famosi Isola dei Famosi 2023, chi sono gli opinionisti della nuova edizione? Il 17 aprile inizia la nuova edizione dell'Isola dei Famosi che vede anche quest'anno la conduzione di Ilari Blasi. Nella precedente la conduttrice è stata affiancata, nel ruolo di opinionisti, da Nicola Savino e Vladimir Luxuria Secondo quanto riportato da TV Blog, la presenza di quest'ultima è stata confermata e invece sull'altra poltrona ci dovrebbe essere Enrico Papi Anche in questo caso nulla è sicuro, tutto sarà svelato molto presto Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me Arrivederci, al prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti